Ciao ragazzi, questo è il nostro campo e qualche giorno fa è venuto a giocare un certo personaggino Un certo Giaver Zanetti, vediamo com'è andata, tra l'altro non lo sapeva nessuno E' stata una sorpresa, lui è venuto qua come decimo e la gente si è trovata chi? Giaver Zanetti, mancava il decimo, mi chiami Questa maglia, cioè porto questa maglia e mi fa mettere la casacca Perché non ha Zanetti, cioè io non capisco questo, questo è razzismo, questo è razzismo Io c'ho la casacca Lui è la casacca, lui guarda com'è venuto e vestito bene Sì, gara Dai Poi Vassanetti, trova ad accelerare, non c'è più centrocampo, non c'è più difesa Sì, gara Giaver Zanetti, Horizonti, Parker Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.